Il settimanale Chiappa Parazzato Stefania Orlando e Fur Campalali, attore di Terra Amara, insieme a cena, esclusivo, Fur Campalali, ovvero Fikret Fekeli Yaman di Terra Amara, prossimo concorrente di Ballando con le stelle, con Stefania Orlando a Roma. I due sono andati a cena al Met, ristorante trendy della capitale nella zona di Ponte Milvio, insieme ad Anna Pettinelli e un altro attore della serie per poi appartarsi in atteggiamenti molto complici. L'attore 37enne ha dichiarato di essere single, e chissà se con la conduttrice Son Rose. Fioriranno. Ieri pomeriggio, l'ex Vippona è stata ospite di Mirta Merlino a pomeriggio 5. E ovviamente non ha potuto fare a meno di commentare questo gossip. Stefania Orlando ha però ridimensionato il rapporto con l'attore turco, parlando di una semplice amicizia e di una cena di gruppo. Io e Furkan? Ero ad una cena con il nostro agente che abbiamo in comune. Hanno fatto queste foto. Diciamo che io sono la sua insegnante di italiano. Mi ha detto insegnami l'italiano.